Sei appassionato di storie di mafia e vuoi scoprire i segreti più oscuri e le vicende meno conosciute? Abbonati al canale dal pulsante che trovi sotto al video oppure dal link che trovi in descrizione e accedi a video esclusivi dedicati ai misteri della mafia, alle inchieste più scottanti e ai racconti che non troverai da nessun'altra parte. Entra adesso nella nostra area riservata e scopri tutto ciò che la storia non ha mai rivelato. Luigi Belvedere, latitante da dicembre 2020, è stato arrestato in Colombia in seguito a un'articolata operazione di polizia internazionale. Inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell'Interno, Belvedere doveva scontare una condanna definitiva a 18 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. Oltre a questa condanna, era destinatario di un ulteriore provvedimento cautelare sempre legato al traffico di droga, confermando il profilo criminale di un personaggio di rilievo nel contesto del narcotraffico internazionale. L'inchiesta che ha portato alla cattura di Belvedere è stata coordinata dalla Procura Distrettuale di Napoli e ha visto l'impegno della squadra mobile della Questura di Caserta, della Sisco di Napoli e dello SCO, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, in collaborazione con Europol e con le forze investigative colombiane. L'operazione è stata supportata anche dalla DCSA, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con una stretta sinergia che ha permesso di tracciare i movimenti di Belvedere fino a localizzarlo in Colombia. Il supporto di Europol si è rivelato essenziale per l'accesso e l'analisi dei dati estratti da una nota app di messaggistica. Questa piattaforma digitale, ampiamente utilizzata da criminali che cercano di eludere le intercettazioni tradizionali, ha permesso agli investigatori di ottenere informazioni dirette sugli spostamenti e sui contatti di Belvedere, confermandone la presenza attiva in Sud America e nello specifico in Colombia. Belvedere, infatti, operava come broker della droga e in Colombia, nella sua abitazione di Medellin, è stato scovato e arrestato la scorsa notte. Luigi Belvedere era inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi del Ministero dell'Interno, è considerato il tramite fra i cartelli della droga del paese sudamericano e clan dei Casalesi. Il 32enne, originario di San Clemente di Caserta, era ricercato dal dicembre 2020 e deve scontare 18 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per internazionale di stupefacenti. Pare sia stata un'app di messaggistica a tradirlo, mettendo sulle sue tracce gli agenti della squadra mobile di Caterta, della SISCO di Napoli e dello SCO, che si sono anche recati in Colombia e sono stati coordinati nelle indagini svolte in collaborazione con investigatori del posto e dell'Europon dalla procura partenopea. In questa fase della sua latitanza, Belvedere aveva probabilmente trovato un appoggio stabile da parte di cartelli colombiani, con cui i Casalesi, il suo clan di appartenenza, hanno stretto alleanze per il traffico di stupefacenti. Questi cartelli garantiscono spesso ai latitanti italiani, una rete di protezione, offrendo supporto logistico e aiutandoli a mantenere un basso profilo, cosa che è durata fino a quando le indagini condotte dalla polizia italiana non sono riuscite a identificarne con certezza la posizione. Il ruolo di Belvedere all'interno del sistema camorristico era quello di broker, cioè intermediario, tra i produttori sudamericani di cocaina e i clan camorristici, in particolare i casalesi. La camorra, infatti, non solo è tra le principali organizzazioni criminali italiane dedicate al traffico di stupefacenti, ma anche tra le più esperte nel consolidare rapporti con i cartelli sudamericani. Negli ultimi decenni il clan dei casalesi ha costruito una vera e propria rete internazionale, con legami stabili non solo in Sud America, ma anche in altri paesi strategici come la Spagna, che rappresenta una delle principali porte d'accesso della droga in Europa. Belvedere, grazie alla sua conoscenza dei meccanismi del narcotraffico e alle connessioni con le strutture logistiche dei cartelli colombiani, rappresentava un asset di rilievo per i casalesi. In qualità di broker, il suo compito non si limitava alla gestione delle spedizioni di cocaina, ma comprendeva anche la negoziazione di accordi diretti con i cartelli sudamericani, bypassando altri intermediari e abbattendo così i costi operativi, assicurando al clan una fornitura costante e regolare di stupefacenti. Il clan dei casalesi, fondato da Antonio Bardellino negli anni 70, è uno dei gruppi più potenti e influenti della camorra campana. La struttura del clan si è evoluta nel tempo, consolidando un vero e proprio cartello multifamiliare capace di operare a livello internazionale. Il traffico di stupefacenti è uno dei pilastri economici del clan, che negli anni ha saputo costruire una rete logistica per il trasporto e la distribuzione di droga in Europa, gestendo una complessa filiera che inizia con la produzione in Sud America e arriva fino alla distribuzione al dettaglio nelle città italiane ed europee. L'abilità del clan dei casalesi nel stringere alleanze con altre organizzazioni criminali, tra cui l'Andrangheta e Cosa Nostra, ha permesso loro di rafforzare il controllo sul mercato della cocaina, trasformando i casalesi in uno dei principali attori del narcotraffico europeo. Ogni figura come belvedere è, in questo contesto, parte di una struttura gerarchica che si fonda su ruoli ben definiti e su una strategia consolidata, con lo scopo di massimizzare i profitti e minimizzare i rischi legati all'approvvigionamento e alla distribuzione della droga. L'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare le intercettazioni e l'accesso ai dati delle piattaforme di messaggistica, è stato un elemento chiave nell'indagine che ha portato alla cattura di belvedere. Negli ultimi anni, Europol e le forze di polizia italiane hanno rafforzato la loro collaborazione, investendo in nuove tecnologie di sorveglianza e analisi dei dati. Grazie all'intervento su una nota app di messaggistica utilizzata dal latitante, gli investigatori sono riusciti a monitorarne le comunicazioni e, attraverso l'analisi dei messaggi, a ricostruire la sua rete di contatti e individuare la posizione geografica. Questo tipo di intercettazione si è rivelato efficace anche in altre operazioni contro il narcotraffico. Le applicazioni di messaggistica criptate sono sempre più utilizzate da criminali che tentano di sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine, ma l'accesso alle loro comunicazioni, ottenuto con strumenti di collaborazione internazionale, sta invertendo questa tendenza. Europol, in particolare, è in prima linea per sviluppare e utilizzare strumenti di monitoraggio che permettano di svelare le comunicazioni dei trafficanti, anche quando si avvalgono di app criptate. L'arresto di Luigi Belvedere è un segnale importante nella lotta contro il narcotraffico internazionale e rappresenta un significativo colpo per il clan dei casalesi. La sua cattura potrebbe portare alla riorganizzazione delle operazioni di traffico del clan, che dovrà trovare una nuova figura in grado di ricoprire il ruolo strategico di broker. Tuttavia, la camorra ha già dimostrato di possedere una struttura resiliente, in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di formare nuovi elementi per ricoprire ruoli chiave. Nonostante le probabili contromisure che i casalesi adotteranno, l'arresto di Belvedere rappresenta anche un deterrente per altri latitanti che operano all'estero. La collaborazione internazionale tra le forze dell'ordine, infatti, rende sempre più difficile per i latitanti mantenere l'anonimato o trovare rifugio in paesi con leggi meno severe sul narcotraffico. L'Italia, con l'aiuto di Europol e della DCSA, ha intensificato la cooperazione con paesi del Sud America, rafforzando l'impegno nel contrastare i flussi di droga. La cattura di Luigi Belvedere rappresenta una vittoria importante per le forze dell'ordine italiane e internazionali, che negli ultimi anni hanno moltiplicato gli sforzi per bloccare le attività del narcotraffico camorristico. Sebbene la struttura dei casalesi possa essere difficile da destabilizzare in modo definitivo, arresti come questo mostrano come la cooperazione tra le polizie possa essere uno strumento cruciale per colpire i canali del traffico internazionale.